C'è, oppure si fa vedere, si fa vedere lei, o se no, semplicemente, in qualche modo, o mi può guardare la mia carta, ma si ritaino questi soldi che gli ho messo, oppure mi fa... Adore, riuscire a fare i soldi, e la mia parola, non lo so, 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 non lo so.